Il nonno, il nonno stava in Gebbia, a San Rebbe, qua giù dietro c'è un mucchio di case, io stavo lì, le presero, erano una diecina, le portarono sotto San Pancrazio, l'avviso dove c'è la lapide, le portarono dentro una capanna, le fucilarono e lettono fuoco. La notte, i miei babbi andarono e le portarono di notte con un men solo, io avevo tre anni. A distanza di 72 anni dalle stragi naziste nei centri abitati di San Pancrazio e Civitella, è ancora forte il ricordo di chi negli anni della seconda guerra mondiale era solo un bambino quando assistì a quel martirio. Una strage che ha interessato paesi diversi, che ogni anno si ritrovano per ricordare il dolore di quei giorni e anche quest'anno è stato così, con la Marcia della Pace. In cammino per 8 chilometri tra i boschi, sulla strada bianca che porta da San Pancrazio a Civitella con in testa i sindaci seguiti da alcuni testimoni di quei giorni e soprattutto dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie dei comuni di Bucine e Civitella, protagonisti di questa marcia, ai quali le comunità dei due paesi vogliono affidare il ricordo di quanto accaduto affinché si impegnino per la pace. Pensate, abbiamo visto famiglie intere, 10-11 persone massacrate nella cantina di San Pancrazio. Per noi che viviamo la storia attuale è un'emozione, per chi ha vissuto quei tragici fatti è un ricordo che non si cancella nella mente. Ieri sera abbiamo, per preparare questa iniziativa, parlato con quei pochi sopravvissuti di San Pancrazio e una signora mi ha colpito perché ha detto, perdonare si può, dimenticare no. Alla marcia hanno preso parte anche alcuni rappresentanti del comune tedesco di Kampfelbach, gemellato con quello di Civitella ormai da alcuni anni, senza nascondere la propria commozione davanti alla storia e al ricordo di una delle pagine più violente nella storia della Seconda Guerra Mondiale nel territorio aretino. Siamo qui per rafforzare ancora di più il rapporto di amicizia che lega la nostra comunità a quella di Civitella e per lavorare insieme per la pace tra le nazioni, racconta il rappresentante del comune di Kampfelbach. Siamo rimasti molto impressionati nell'apprendere quanto è accaduto a Civitella e San Pancrazio. Insieme dobbiamo lavorare per sconfiggere la violenza. La presenza oggi di un gruppo così numeroso della delegazione di amici tedesca vuol proprio testimoniare la vicinanza a queste due comunità che sono state accomunate da un tragico destino ma che insieme vogliamo ripartire per un rapporto di amicizia all'insegna di un'Europa unita.